Ciao a tutti e bentornati, continuiamo con Youngblood e le sue missioni secondarie Le sue missioni secondarie, sì Scusate Che vuol dire quel simbolo di arancione? Mi ricordo Allora, la metropolitana Accedi alle fogne e vai all'assemblaggio di Panther Hunt Ok, facciamo questo due qua Vai Victory Boulevard Victory Boulevard Collezionabili Non so se è piena Mamma mia Mai visto che sono stati collezionabili in un gioco? Mai visti? Qualcosa di incredibile Allora Ma 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 Si va proprio di qua, giusto? Andiamo di qua. Porta! Jesse, 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 che mi combini! Sotterranei di Victory Boulevard. Sparra, sparra, vai, 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 sparra, sparra! Perfetto. Cazzo. Ma... Dai, spara! Ah, vai, c'è gara. Ma la smettete? Ma non c'è mica qualcosa di più decente? Da usare con la mano di Dio, corta o acca? Da usare con la mano di Dio, corta o acca! Cazzo! Ma... Cazzo! Continuo, continuo, per favore, continuo. Cazzo! 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 Oh! 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 Cazzo! Cazzo! Ok! Ora! Pronto il soldato! No! Non c'è nessuno. la prima macchina infame che sei ah non ci arrivo mica da qua mi sa ho sbagliato punto apriamo questo perfetto non c'è nient'altro ponete bene apri che rompiamo anche questo eh trovare le altre due sarà interessante oh cazzo oh cazzo vai vai continuiamo perché si è ok così si fa così si fa e anche questa missione l'abbiamo fatta resta uno resta uno e anche molto vicino proprio meglio di così guarda non poteva andare out no 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 Sì! 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 P Sun philosoph... ... ... ... U ... ... ... Cazzo Che faccia a qualche spalla? Cazzo Stai andando bene Cazzo 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 Era un po' sovra pensiero Non so se avete fatto caso Stavo pensando Al da farsi Perché io sarei un po' stufo Di fare le missioni secondarie Però è anche vero Che la missione Finale Della campagna Era veramente difficile E non sono sicuro Che il livello 42 Sia ancora abbastanza Incredibile ma vero Però è quello che penso Proverei Finalmente Non era quello che volevo fare Comunque va bene Perché ho fatto Sta stronzata qua Voi vi starete chiedendo Perché c'è Tipo un achievement Di uccidere 50 nemici Che non sono pochi Entro 3 secondi Del Invisibilità Fanno quello che lo farò mai Onestamente Sono troppi 50 50 Sono veramente Tanti cavoli È giusto qui Speriamo bene Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa No Zero zero Belle armi forse Non Cazzo, non ho abbastanza soldi 1020 costa Cavolo Basta Sai che un po' alla volta ci facciamo un arsenale con i controcatti Chi sa quante volte Vediamo se troviamo Quest'altra missione secondaria Distrugge i comandi di assemblaggio Vediamo bene Ma perché è sempre così al buio Sto cazzo qua Sempre al buio Sempre al buio Eccoli qua Ok Certo che sì Che carino Doldi Poveri tecnici Non c'entrano niente Sono qua a fare il loro lavoro Cazzo Si trovano in mezzo Ha dei soldati addestrati Vabbè Mi spiace per voi È giusto di qua Proviamo Non ne sono sicuro in realtà Ma non c'è Forza per me Forza per me Cazzo Allora Ho preso anche di tre posi Bene Impossibile Bene E vai E vai Ottimo Siete davvero Davvero brave La resistenza deve essere felice Di avervi a bordo Eh già Con il codice L'ha Dove può servire Non ne ho idea Ah eccolo qua Che veloce che è stata Altro che giocare in due qua Ecco stavo andando Abbiamo sbloccato sto passaggio Bene dai Materiale delle indagini Chissà 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 Ehi Ehi Credo che ci siano dei nazisti in giro No problemà Non ci siamo adesso Ehi Possiamo la fraccia silenziosa Non ci siamo E vai E vai Maledetto infamone Dai Dai No Contro questo qua non gli fa niente Cazzo Non Oh Oh Quasi quasi metterei via i punti esperienza Per prendere quello lì che possiamo Immagazzinare le armi pesanti Perché cazzo le armi pesanti Tanta roba Tanta roba Specialmente in certe situazioni Grazie Grazie Alla grande sorella Forza Credo proprio che queste siano delle prove Jess Facciamo le armi pesanti Mi occupo di questo Mi occupo di questo Mi pare detto infame Cazzo 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 ma cazzo sarebbe di dentro ma cazzo sarebbe da ma cazzo sarebbe da ma cazzo sarebbe da e mi sa che è qua dentro allora da qua si raggiunge vabbè Jess andiamo dentro avrei preferito evitare di intrigarmi qua però così è vai 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 scatta 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 viena eh dov'è oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo che mia maledetta oh oh cazzo che mia oh E vai Bene Bene Quindi se io faccio così Non puoi vaggiare nemici intorno Oh Posso viaggiare ancora i nemici in zona Sì, vabbè, cosa devo avere? 200 km di gomberi praticamente Vai Sì, ma sta roba qua di premere, ma perché non me l'hanno mai detto sti deficienti? Oh, sto pensando che forse potevo farlo anche nella missione principale dove mi ero bloccato a sto punto Ma, chi lo sa, chi lo sa Chi lo sa Prego Prego, prego Raggiungi l'avamposto abbandonato Cerchiamo di viare la trasmissione su una frequenza a lungo raggio Per mettere in guardia un avamposto della resistenza sulle Alpi Però, serve il trasmettitore adatto Andate al nostro avamposto radio abbandonato nelle cogne Sotto l'area di detenzione politica 4 Trovatemi un trasmettitore e portatelo qui Buon chance Ok Vediamo, adesso 4 ragamette, parliamo a prendere un altro punto E mi prendo l'abilità Ehi là Trovi combattenti sparsi Abbiamo mandato 4 combattenti al centro di ricerche e sviluppo dei nazisti Per rubare informazioni tecnologiche Ok Non abbiamo più notizie Vi prego Aiutateli e recuperate quello che hanno trovato Carasho Affare fatto, va bene Posto Presa la missione, si Ok Strano però Ma non c'era un altro cosa da fare il rapporto, no? Pare veramente molto strano che siamo definiti No? 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 Grazie a tutti. Oh. Hmm. Bene, ragazzi. Con questa puntata è tutto. Grazie e alla prossima.